Sono iniziate nel porto di Bari le operazioni di svuotamento, tecnicamente smassamento, della Norman Atlantic. La motonave è naufragata dopo un incendio scoppiato a bordo il 28 dicembre 2014 a largo delle coste albanesi. Ad un anno dall'incendio il tragretto potrebbe restituire i corpi di almeno 18 dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati. Dispersi che si aggiungono alle 11 vittime accertate del naufragio della motonave che partì dalla Grecia diretta ad Ancona con 500 passeggeri. L'attività di svuotamento delle carcasse delle auto è cominciata sul ponte 5, quello più esterno, e proseguirà nelle prossime settimane. Le vetture completamente distrutte dalle fiamme e irrecuperabili vengono direttamente mandate a smaltimento. La fase più delicata sarà quella di svuotamento dei ponti 3 e 4 dove gli inquirenti ipotizzano che sia scoppiato l'incendio e dove potrebbero esserci prove e cadaveri. Sul relitto, ormeggiato dal febbraio scorso di fronte al terminal crociere del porto di Bari, è in corso da alcuni mesi un incidente probatorio chiesto dalla procura per accertare le cause dell'incendio, la gestione delle fasi di salvataggio e soprattutto la funzionalità di tutti gli impianti a bordo. Dopo l'apertura del portellone di Poppa lo scorso giugno e una serie di sopralluoghi effettuati sul relitto da parte dei periti nominati dal giudice e dalle parti, sono iniziati anche gli accertamenti delle due scatole nere sui computer di bordo. Nell'indagine della procura di Bari, coordinata dai PM Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano, sono indagate 12 persone per i reati di cooperazione colposa e naufragio, omicidio plurimo e lesioni. I due legali rappresentanti della società greca ANEC, noleggiatrice del traghetto, un dipendente della stessa società ANEC, il cosiddetto supercargo addetto alle fasi d'imbarco, l'armatore Carlo Visentini, il comandante Argilio Giacomazzi e sette componenti dell'equipaggio.